Situazione critica senza precedenti, il caldo e l'afflusso di turisti mettono a rischio il servizio di erogazione dell'acqua. Rubinetti chiusi in orario notturno in diversi comuni della Valsassina. Costruire una seggiovia ai piani di Artavaggio è una follia, lo sostiene Luca Rota, scrittore di libri di montagna che critica lo stanziamento di 11 milioni per le stazioni sciistiche lecchesi. La memoria e la valorizzazione dei luoghi confiscati alla mafia al centro del campus estivo organizzato da Libera Lecco per i ragazzi. Una settimana di iniziative terminata con lo spettacolo al Giglio. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV edizione di Lecco. Torniamo a parlare della crisi idrica perché il caldo e l'afflusso di turisti mettono a rischio il servizio di erogazione di acqua nella provincia di Lecco. Una situazione senza precedenti. Rubinetti chiusi in orario notturno in diversi comuni della Valsassina. Per i prossimi 20 giorni l'allarme è rosso in tutto il territorio. Sentiamo. La situazione si fa critica e per davvero a poco sono servite le precipitazioni delle ultime ore e a poco serviranno quelle previste nei prossimi giorni. Se non si procede con un utilizzo più responsabile dell'acqua da parte di tutti, il servizio di erogazione idrica nella nostra provincia ha serio rischio. A chiedere turisti recchesi un uso più consapevole della più preziosa delle risorse, l'ario Retti Holding. I prossimi 20 giorni sono i più critici da questo punto di vista, considerato l'afflusso di turisti che trascorreranno le ferie di agosto nella nostra provincia. La zona più colpita è la dorsale del lago da Colico, Alecco, incluso Olivetto Lario, e la Valsassina, dove l'approvvigionamento idrico è basato solo su sorgenti locali che non riescono a far fronte ai consumi in crescita per il caldo e per la presenza di turisti. A Suelio, Casargo, Valvarrone, Amoggio, Crandola e Premana, durante l'ultimo fino a settimana, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua in orario notturno. Un provvedimento necessario perché i pozzi si possano riempire durante la notte e garantiscano la fornitura senza intoppi durante il giorno. Diversi comuni hanno quindi invitato i cittadini a un utilizzo ancora più responsabile dell'acqua. Niente irrigazioni degli orti, niente lavaggi delle auto e niente piscine piene rispetto a quelle già presenti la scorsa primavera. Un comportamento che l'Ario Reti Holding chiede venga esteso anche ai cittadini residenti in tutte le altre zone della nostra provincia, fornite dall'acquedotto brianteo che pesca dal lago e che dunque, nonostante l'Adda sia in minimi storici, non ha per ora problemi di approvvigionamento. Più che la pioggia, contribuire a migliorare il quadro può essere il clima. L'acqua caduta dal cielo impiega infatti almeno tre mesi a penetrare il terreno e raggiungere le falde che alimentano le sorgenti. Se invece la temperatura si abbassa i consumi si riducono all'istante. Le prime piogge sono annunciate a partire da venerdì. Mai fu così desiderato un ferragosto bagnato. Il suo grande cuore alla fine ha ceduto. Lecco piange Loredana Pini, morta a 74 anni mentre era in vacanza in Sardegna. Originaria di Mandello dopo il matrimonio si era trasferita in Viale Turati ad ucciderla. La legionella ha contratta mentre si trovava ad Olbia. Ha combattuto fino in fondo ma questa era una battaglia più grande di lei, le parole commosse del figlio Francesco. Forte l'impegno di Loredana in parrocchia, in oratorio e nelle associazioni sportive e ricreative del quartiere. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 9.45 nella chiesa dei frati Cappuccini. Costruire un asseggio via ai piani di Artavaggio per tornare a sciare è una follia, a dirlo lo scrittore di libri di montagna Luca Rota che critica lo stanziamento di 11 milioni di euro per potenziare le stazioni sciistiche lecchesi. Vediamo. Il primo no era arrivato dal circolo ambiente Ilaria Alpi. Soldi pubblici per asfaltare pezzi di montagna e renderla accessibile alle auto, una logica perversa che contrasta con l'emergenza del consumo del suolo e del riscaldamento globale. Le parole, dopo lo stanziamento di 11 milioni di euro da parte della giunta regionale, per potenziare i poliscistici lecchesi costruendo anche una seggio via ai piani di Artavaggio. Ora la nota dello scrittore di montagna Luca Rota, autore insieme a Sara Invernizzi e Ruggero Meles, di una guida sulla dorsale orobica. Artavaggio, come abbiamo raccontato nel volume, è diventato un modello di rinascita post-scistica così interessante da suscitare l'interesse di molti studiosi delle tematiche legate al turismo e allo sviluppo dei territori montani, spiega. Installare nuovamente impianti di risalita e pretendere di riportare lo sci su pista ai piani d'Artavaggio, a 1600 metri di quota con un'esposizione sfavorevole dei pendii, peraltro sui quali ben difficilmente nevicherà ancora come un tempo, rappresenta una dissenatezza assoluta. Tutto questo con la realtà climatica che stiamo affrontando e ci aspetta nei prossimi anni, che evidentemente qualcuno non vede e non conosce. Quello imposto ai piani d'Artavaggio è un progetto che rappresenta una follia assoluta, non ci sono altre definizioni adeguate, una follia da contrastare in ogni modo possibile. Riapre il santuario di San Girolamo a Vercurago, chiuso da gennaio a causa di una scarica di massi nella zona della Rocca dell'Innominato. I lavori di messa in sicurezza sono terminati e a partire da domenica 14 agosto sarà nuovamente accessibile. Dopo gli interventi di messa in sicurezza di tutta la parete, spiegano i padri somaschi, realizzati dalla comunità montana all'area orientale Valle San Martino, a cui va tutta la nostra gratitudine e terminati quelli di pulizia e recupero delle pareti ammalorate, siamo pronti a riaprire i cancelli. Il nostro grazie va al gruppo di volontari e volontari che anche nei giorni di grande caldo hanno lavorato intensamente per consentire di ripartire. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti per la pazienza avuta. Finanziata la progettazione e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sull'Adda che collegherà Paderno a Calusco, sono in arrivo risorse per 85 milioni di euro. Ora si attendono i fondi per il viadotto stradale. Il San Michele infatti entro il 2030 diventerà solo pedonare. Mentre si continua a discutere sulla posizione di quello stradale, i sindaci del Meratese lo vorrebbero più a sud rispetto al progetto, si comincia col nuovo viadotto ferroviario. Il ponte San Michele dovrà essere dismesso entro il 2030. Al suo posto due nuovi ponti sul fiume Adda tra Paderno e Calusco, per cui sono in arrivo risorse per 85 milioni di euro. Le infrastrutture saranno determinanti per migliorare la mobilità tra la Brianza Meratese e l'isola Bergamasca. I finanziamenti per i nuovi ponti, uno ferroviario e l'alto stradale tra Paderno e Calusco d'Adda, spiegato all'assessore regionale alle infrastrutture, Claudio Terzi, sono stati inseriti nel contatto di programma tra Stato ed RFI su sellecitazione di Regione Lombardia. I fondi sono stati stanziati nell'ambito del contatto di programma 2022-2026 che riguardano la progettazione del nuovo attraversamento ferroviario e stradale e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario. Gli 85 milioni messi in campo, prosegue Terzi, sono un passaggio fondamentale per rendere più efficienti i collegamenti tra Lecco e Bergamo, due tra i territori più produttivi d'Italia e che meritano infrastrutture funzionali. Il nuovo ponte ferroviario migliorerà e velocizzerà la direttrice tra Bergamo e Milano, consentendo anche su quella linea di far circolare nuovi treni acquistati col finanziamento di Regione Lombardia, mentre il nuovo ponte stradale porrà fine al collo di bottiglia che genera code, ritardi e rallentamenti. L'attuale ponte San Michele, di gran pregio storico, ma in adeguato alle esigenze viabilistiche ferroviarie, resterà un monumento di archeologia industriale con la prospettiva di utilizzarlo per i collegamenti ciclopedonali. Lo stanziamento, concluso l'assessore regionale, dimostra che il pressing di Regione nei confronti di RFI e dello Stato sta ottenendo risultati significativi. Il prossimo passo dovrà essere il finanziamento per la realizzazione del ponte stradale. Ha preso il via come ogni agosto la Sagra delle Sagre, taglio del nastro ieri in Valsassina per la Kermess, giunta alla sua 57esima edizione. Dopo due anni segnati dal Covid, si punta a tornare ai livelli di affluenza del passato. Domenica 7 agosto si è inaugurata la 57esima Sagra delle Sagre, successo di pubblico, tanta affluenza subito fin dalle prime ore del mattino e parte tutto con i buoni auspici. Sì, iniziata bene, tanta gente e tanta vicinanza da parte delle istituzioni che non smetterò mai di ringraziare tutti i sindaci del territorio ma anche consiglieri regionali, assessori, sottosegretari e parlamentari intervenuti. Sono stati un bel segno di vicinanza che apprezziamo come organizzatori. Quindi anche quest'anno si supererà la presenza rispetto agli anni scorsi? Come nel precampionato tutti si sentono vincitori dallo scudetto, poi alla fine solo uno se lo cuce. Però le premesse sono buone, la squadra è affiatata e collaudata per cui se il tempo tiene sicuramente sarà una bella Sagra. Non è più la Sagra di una volta e questo dobbiamo farcene una ragione, per qualcuno è meglio, è anche meglio. Se la Sagra del 2020 l'abbiamo definita quella del coraggio perché eravamo nel pieno della pandemia e quella del 2021 quella della speranza, nella speranza che alla fine le situazioni si risolvessero, quella di quest'anno per noi è la Sagra della Riscossa. Quindi ci aspettiamo un gran numero di visitatori e ci auguriamo che questi visitatori portino anche beneficio alle casse dei nostri espositori. Ci sono tantissimi villeggianti, ci sono tantissime persone che salgono alla Ballabio tutti i giorni per venire in Valsassina a fare il giro. La Sagra con il suo richiamo sicuramente aumenterà ancora di più questo numero di visitatori occasionali che però poi alla fine, cosa succede? Una volta visitata la Sagra vanno a visitare anche la Valle. Sono arrivati da tutta Italia i ragazzi che hanno preso parte al campus organizzato dall'Associazione Libera contro le Mafie. Una settimana di iniziative sul tema della memoria e della valorizzazione dei luoghi confiscati alla mafia al Giglio lo spettacolo conclusivo dedicato a Emanuela Loi. Vediamo. Si chiama Emanuela. È nata il 9 ottobre 1967. Il primo passo nella storia l'ha mosso subito dopo aver finito l'istituto magistrale. Il suo sogno era diventare maestra. Si è concluso con lo spettacolo dedicato a Emanuela Loi, l'agente di polizia morta nella strage di Via D'Amelio, il campus lecchese di Estate Liberi. Organizzati in tutta Italia dall'Associazione Libera contro le Mafie, i campi di impegno e formazione hanno come obiettivo la valorizzazione del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia. Tema del campus lecchese di quest'anno, dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni, la memoria del presente. Insieme all'Associazione Culturale e lo Stato dell'Arte, attraverso un lavoro di recupero di testimonianze, storie e cronaca, una riflessione sul passato per leggere il presente con maggiore consapevolezza. Il bilancio è super positivo. I ragazzi che hanno partecipato sono stati 13 provenienti da diverse parti d'Italia, da Roma, da Napoli, da Torino, da Firenze, da Bologna, ma anche dal territorio perché è da Desio ad esempio un ragazzo. Quindi ha veramente coperto un spettro geografico ampio. Abbiamo dedicato il campo ai temi propri di Libera, che sono i temi dei beni confiscati, i temi della memoria, i temi della formazione e in particolare il tema della memoria l'abbiamo affrontato attraverso il linguaggio teatrale, cosa che era già stata fatta lo scorso anno e l'anno prima ancora, sempre all'interno del campo estate liberi della provincia di Lecco. Abbiamo visitato i beni confiscati, il fiore, il giglio, le querce di Mamre e quest'anno abbiamo dedicato lo spettacolo teatrale, cioè il tema della memoria, a Emanuele Alloi, a cui il giglio è intitolato. E' proprio questa iniziativa vista la collaborazione anche dello SPI CGL Lecco e di CGL Lecco, tra i temi affrontati anche quello del lavoro e dell'azione svolta dal sindacato per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e l'affermazione della legalità. Durante l'escursione al torrente Gerenzone, nella culla della metallurgia lecchese, Guerrino Donegà della segreteria dello SPI CGL Lecco ha ripercorso i capisaldi della storia del movimento sindacale, ricordando anche il sacrificio di alcuni sindacalisti della CGL, assassinati dalla mafia da Placido Rizzotto, a fianco dei contadini siciliani nella lotta per l'occupazione delle terre, a Piola Torre, promotore della legge che introdusse il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni ai mafiosi. A tutti i partecipanti è stata consegnata una copia del libro Terra e Libertà, storie di sindacalisti uccisi dalle mafie. E questa era la nostra ultima notizia, il telegiornale si conclude qui, ma vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito teleunica.com e potete rimanere anche aggiornati tramite i nostri canali social e sul sito teleunica.tv. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.